Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dugane e dei Monopoli in servizio presso lo scalo aeroportuale di Capodichino, ha tratto in arresto due cittadini di origine africana che trasportavano complessivamente 11,3 kg di droga occultati all'interno dei bagagli da stiva. I due corrieri, un 45enne e un 23enne, giunti a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stavano per lasciare l'aeroporto quando sono stati fermati e sottoposti a controllo prima di allontanarsi dalla sala arrivi. In particolare gli ufficiali addetti ai controlli, non convinti delle spiegazioni ricevute ed insospettiti da ulteriori segnali di rischio, hanno controllato i bagagli dei due soggetti, rinvenendo 569 ovuli contenenti cocaina per un peso complessivo di 8,3 kg e 3,1 kg di oppio all'interno di alcune bottiglie e confezioni per l'igiene intimo personale, pronti per essere distribuiti nelle piazze dello spaccio campane. L'elevata purezza dell'ingente quantitativo di droga sequestrata avrebbe consentito alle organizzazioni criminali di immettere sul mercato nazionale circa 300.000 dosi di droga per un guadagno complessivo di oltre 2 milioni di euro.